La fantasia fa da padrone in ogni sabato pomeriggio dedicato allo shopping in centro a San Giovanni grazie all'organizzazione della Conf Commercio Cittadina e dopo la sfilata del fan club nazionale di Harry Potter si passa al mondo dei supereroi della Marvel nati anche se non solo, soprattutto dalla testa di Stan Lee prevista la sfilata di cosplayer a vestire gli abiti che al cinema abbiamo visto annualmente fino agli ultimi episodi degli Avengers il primo è andato molto bene, sabato prossimo il centro storico sarà animato dai fantastici personaggi supereroi della Marvel che tutti conosciamo, quindi da Iron Man con la sua armatura alla vedova nera, l'uomo ragno, l'aki tutti questi che giocheranno con ragazzi e bambini che sono invitati tutti qui a San Giovanni Valdarno insieme a noi io ci terrei a ringraziare i due partner istituzionali che con noi hanno reso possibile questa carrellata di eventi che sono il patrocinio del Comune di San Giovanni e della Proloco ma in particolare i partner che hanno economiamente contribuito alla realizzazione di questi eventi quindi la Camera di Commercio di Arezzo, la Banca del Valdarno, Moretti S.p.A. e Assicurazioni Generali Italia in particolare l'agenzia di San Giovanni Valdarno Corso Italia Tra l'altro il raduno è ufficiale nazionale quindi insomma è previsto tantissime persone vestite da cosplay come si dice? Questi cosplay sono come quello di Harry Potter nati all'interno di Luca Comics e sono quelli che poi chi andrà a Luca Comics potrà rivedere quindi sono quelli veri Contributo dunque tra gli sponsor delle Generali con Claudio Calamandrei anche fan del mondo Marvel E l'appuntamento dunque è dalle 16 in centro a San Giovanni sabato 8 ottobre Anche come Generali Italia San Giovanni Valdarno siamo felici di contribuire a questa iniziativa dei sabati aperti per ottobre e novembre e siamo contentissimi non vediamo l'ora che arrivi sabato prossimo questi personaggi della Marvel che riemperanno il nostro corso di San Giovanni fra l'altro l'agenzia è proprio in corso quindi strafelici di contribuire e che la manifestazione sia veramente bella come certamente sarà Qual è il suo supereroe preferito e non mi dica che è cresciuto ormai per i supereroi perché non si cresce mai? No, questo non sono cresciuto e anzi glielo faccio indomenare a lei chi è è un famoso playboy, miliardario, filantropo Iron Man? Lui